Ciao ragazzi, buonasera, buonasera, so che in Italia è sera, sono le 21.39, sicuramente avremo zero partecipanti del mio team perché alle 21.39 sono tutti sul pezzo a lavorare, quindi mi aspetto, anzi pretendo che non ci sia nessuno. No, no, chi sono? Stevens, ciao. Allora ragazzi, oggi vi parlo dell'invito, sono qui in Messico all'hotel, Grand Hotel Weinstein con la mia famiglia per gli ultimi 4-5 giorni di vacanza e ho pensato di parlarvi dell'invito. L'invito è una delle skill più importanti nel network marketing, è la più importante perché serve a presentare l'opportunità alle persone e viene definita questa fase fase di esposizione. La tua qualifica, la mia qualifica, la nostra qualifica da professionisti del settore dipende sempre dal numero di persone a cui esponiamo, per cui l'invito diventa, essendo il trasporto tra il tuo prospect e l'informazione, è proprio l'abilità numero uno dell'industria. E' l'abilità numero uno da conoscere, quindi da sapere, da studiare, interpretare e masterizzare, cioè essere maestro in questo e anche da insegnare. Quando noi sappiamo bene cosa è l'invito, sappiamo dargli il valore, sappiamo farlo, sappiamo insegnarlo, sicuramente avremo un'organizzazione che espone tantissimo, quindi che informa tanta gente, quindi statisticamente è veramente difficile poi che non funzioni. E quindi te ne voglio parlare in un breve video di cinque minuti. Io sono dell'idea che non serve a un genio per fare un invito, sono dell'idea che quando tu credi a qualcosa le persone si muovono e vengono. In realtà non è una mia idea, è scienza, però partiamo dal cosa fa l'invito. Qualifica le persone, qualifica chi è interessato a saperne di più. In americano dicono pick the interest, cioè prospetta la tua lista, vedi della tua lista nomi chi è interessato eventualmente a sapere di più di questa opportunità. Questo è prendere l'interesse, qualificare le persone. Non abbiamo bisogno di tutti dalla tua lista, non vogliamo perdere tempo con tutti, non possiamo perdere tempo con tutti, vogliamo parlare con quindici che vogliono sapere. Quindi questo è la prima cosa, cioè qualifica le persone. La seconda cosa che è più importante è il che dà il primo impatto sull'opportunità. Quindi anche tu o io, quando siamo stati invitati, qual è stato il primo impatto sull'opportunità di network, l'invito. Come viene fatto l'invito è importante, perché ti ho parlato di una scala del valore, di un termometro del valore e la prima tacca su cui impostiamo il valore percepito dell'opportunità del prospect è proprio l'invito. Per questo dicono a molti professionisti che sia il 90% della sponsorizzazione. Non penso che sia il 90% perché nel mio team sono venute persone a vedere la nostra opportunità molto svogliate, invitate male, che però poi si sono unite perché hanno capito la bellezza del progetto, però è molto importante. Perché? Perché dà subito una percezione di valore da parte della persona a cui telefoniamo. Quindi è importantissimo prima di vedere tante cose. Allora, cosa dobbiamo sapere? Adesso vediamo cosa dobbiamo sapere. Innanzitutto la cosa più importante è sapere, essere consci, consapevoli, anche qui ritorno consapevolezza, dobbiamo sapere prima noi che è un processo, cioè è lavoro, non è la chiamata all'amico, non è una telefonata. L'invito è un processo sistemico che ti deve portare o al sì o al no. Non interessa, ma comunque va sempre fatto così, ok? Perché sennò diventa un hobby, un gioco e gli hobby non pagano, costano. Mi raccomando, quindi rimani subito consapevoli che è un processo, è lavoro l'invito, è qualcosa di molto importante. Seconda cosa che dobbiamo sapere è che l'invito serve a invitare, non serve a convincere, non serve a iscrivere, non serve a spiegare. Perché se spieghi togli la curiosità e la curiosità è l'unica, l'unico motivo per cui la gente si muove e viene a vedere le informazioni. Perché è curioso? Perché sei stato talmente bravo a mettergli quella pulce nell'orecchio, a quel seme in mente che gli sta germogliando e lui non può vivere senza vedere le informazioni. Non è per spiegare, è come la partecipazione ad un matrimonio. La partecipazione del matrimonio serve a invitare la persona. Se viene o non viene, pazienza. Io mi sono sposato sette anni fa e lo sapevo che mandate 300 partecipazioni sarebbero venuti in 140. Me l'avevamo già detto chi si era sposato ed è stato così, ma io non ero attaccato né al sì né al no. Mi bastava invitare. Bene, usa questa stessa analogia per il tuo invito. Fa sì che l'invito serva solo e solamente a qualificare la persona e a invitare, non a spiegare. Perché se ti metti a spiegare vai in una terra molto complicata. Vai nella terra delle obiezioni, vai nella terra delle domande e lì non esci più. Anche perché sei all'inizio. Quindi ti assicuro che deve essere un processo e deve solo servire ad invitare. Devi essere pronto a prenderti no in faccia e devi farlo come un processo. Altrimenti metterai le emozioni in gioco, sarà un macello. Poi cosa devi sapere ancora? L'edificazione di una terza persona anche nell'invito gioca un ruolo cruciale perché ti smarca appunto dalle domande. Le persone quando le invitiamo vogliono sempre sapere di che cosa si tratta, è la domanda magica e noi smarchiamo questa domanda di che cosa si tratta che il nuovo lo mette un po' in soggezione. Ha un po' paura di rispondere a di che cosa si tratta, glielo devo dire, non glielo devo dire. No, non glielo devi dire se no non viene. E noi vogliamo che le persone si seggano al cinema, guardino il film bene, puliti in testa così alla fine possono dire se il film è bello o no. Ecco perché non diciamo niente. Non diciamo niente anche perché il nuovo non sa spiegare, non ha la consapevolezza, le conoscenze per spiegare. Quindi alla parola domanda di che cosa si tratta noi la smarchiamo edificando una persona, parlando di una persona. Ok? Ci smarca dalle domande l'edificazione, dopo ne parliamo. Un'altra cosa che fa l'edificazione di una terza persona, vatti a vedere il video che ho fatto sull'edificazione che ti spiega come farla, è perché è importante, è che evita che il tuo brand lavori per te. Questa è la cosa più importante. Allora, ognuno di noi ha un vissuto. Questo vissuto è il nostro brand personale, nelle menti dei nostri amici e conoscenti, che sono le persone che vai a chiamare. Molte volte le persone si fermano al brand, al tuo brand, cioè a cosa dice il tuo vissuto di te. Che successi hai avuto? Siccome il 97% delle persone ha sempre lavorato da dipendenti, non ha mai avuto successo, il brand è sempre negativo. Quindi, se tu vuoi evitare che il tuo prospect si fermi al tuo brand e non vada oltre a vedere l'opportunità, perché l'opportunità è oltre al tuo brand, è di là dal tuo brand. Se lui si ferma al tuo brand personale, sei spacciato, sei morto. Io ho fatto tanta fatica all'inizio perché non avevo una persona da edificare, perché ho preso il prodotto in americano e ho creato l'azienda da zero, l'azienda non mi conosceva, non potevo edificare nessuno e era stato un problemone. Ma ricordati che tu hai un tuo brand, che è quello che la gente pensa di te. Non confondere fiducia con rispetto. I tuoi amici si fidano di te, ma non è detto che ti rispettino, anzi, molte delle volte i nostri amici non ci rispettano da un punto di vista professionale. Quindi devi far sì che le persone vadano oltre al tuo brand personale, se no fa da scudo l'opportunità, dietro ci può essere la migliore opportunità del mondo, ma il tuo brand fa da scudo, brand personale, quindi devi smarcare tutte queste obiezioni e le smarchi parlando di una terza persona. Le mandi verso qualcun altro, non verso di te, perché se fai un gioco di ego, io, 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 sappi che i tuoi amici, i nostri amici pensano qualcosa di noi che non ci diranno mai e molte volte la perdiamo la partita, ok? Quindi l'edificazione serve a smarcarti dalle domande e ad evitare che il tuo brand lavori sporco per te e che blocchi le persone nell'andare a valutare l'opportunità. Perché se io, ti faccio il mio esempio, io sono stato facchino per 12 anni, potrà mai un facchino avere un'opportunità milionaria? È ovvio che non può averla. Il mio brand da facchino lavora per me e non fa sì che le persone vadino oltre a valutare l'opportunità che è qua. Ecco perché ho fatto fatica. Non fare questo sbaglio. Il tuo brand personale ce l'hai, anche se non te lo dicono. E la maggior parte delle volte, se non sei una persona di successo, un imprenditore, è negativo. Quindi devi per forza edificare un'altra persona, che deve essere chiaramente un tuo upline, ok? Allora, andiamo a vedere un po' le regole. Allora, una regola dell'invito è che va nella cerchia stretta. Non invitare chi non senti da due anni. Ci sono diversi tipi di mercati. Il network funziona nel mercato caldo, a breve termine. Gli amici, conoscenti stretti, sono quelle persone che alzi il telefono e l'invito è Oh, devi vedere una roba. Punto. I tuoi dieci. Io li chiamo i tuoi dieci. Chi sono i tuoi dieci? Chi sono i tuoi dieci che ti seguono ovunque, anche nelle fiamme? O che si fidano, che vengono a vedere la cosa per te. Quelli devi chiamare. Gente con un rapporto del genere. E con queste persone qua puoi sottolineare quanto è importante per te il tuo progetto di network marketing. E loro ti ascolteranno. Invece la cerchia tiepida, quindi già chi non puoi chiamare in questo modo, gli amici che magari non vedi da un po' di tempo, loro vanno incuriositi sul medio-lungo termine. Con il cambio di lifestyle. Quindi magari, ad esempio, la mia azienda paga una macchina molto presto perché il cambio di macchina fa incuriosire le persone e vedono il cambio di lifestyle e possono chiedere. Oppure con i social network. Oggi sono nella nostra vetrina. Non puoi non usare i social. Non dire, no, io non uso Facebook. Muori. Anche nel network. Muori. Il network va sui social. Andrà sui social. A brevissimo, tra qualche anno sarà solo lì. E quindi non puoi evitare di usare i social network. Fai vedere il cambio di lifestyle. Quindi magari il fatto che tu ti vada a formare in un meeting. Il fatto che tu partecipi a una presentazione dove c'è tanta gente. il fatto che tu vinca dei premi, dei riconoscimenti. Il fatto che tu cambi macchina. Il fatto che tu sia premiato sul palco. Cioè fai notare sul social il cambio di lifestyle. Il cambio di stile di vita. Quello incuriosisce le persone tiepide, il mercato tiepido, sul medio-lungo termine. Ok? Non è quella gente di andare a chiamare con un invito immediato. No. Quali sono i tuoi dieci devi invitare? I tuoi quindici? La stretta, la cerchia calda. Quindi devi partire da lì. Prima regola. Seconda regola, fai il tuo invito. Non usare uno script, se no non funziona. Devi fare il tuo invito. Devi essere confortevole mentre lo fai. L'invito, qui mi rivolgo a tutti chi ha un team. L'invito è bastardo. Perché l'invito è la prima percezione dell'opportunità del prospect. Quindi per il prospect è la cosa più importante del processo, è l'invito. È la cosa più importante. Però il nuovo che lo deve fare è al livello di credo più basso della sua storia. Nel termometro del credo, del nuovo incaricato che è aderito al network, che deve fare gli inviti, nel termometro del credo da 0 a 10, il suo credo è 0, 1 sarà. È bassissimo. È il suo primo giorno. Ma lui deve fare percepire il maggior valore a chi chiama. Difficilissimo. Impossibile. Una bastardata. Una truffa. È impossibile. Perché immaginati quando sei entrato che hai paura. Hai paura. È tutta fuori dalla zona di comfort. È roba nuova. Hai paura. E tu devi far percepire il massimo valore a chi chiami. Cioè, ragazzi, è impossibile. Non è possibile. Se in più devo leggere uno script che io non mi sento, che non mi appartiene, non funzionerà. Quindi io ti consiglio di prendere gli inviti che ti insegna la tua upline, il tuo team, la tua azienda e fartelo tuo. Scrivitelo. Scriviti le parole. Quando tu dici quelle parole, il tuo stato emozionale deve essere positivo, non negativo, in costrizione. Cavolo non lo dico. Perché arriva quella roba lì. Mi raccomando, è importantissimo. Quindi fai il tuo invito. Io questo insegno al mio team. Ne insegno due o tre. E poi dico, fate il vostro. Perché quando lo dite dovete essere in gioia, in abbondanza. Dovete voler veramente dare questa opportunità. E le parole sono l'etichetta sulle cose che noi diamo alle cose. Quindi una parola cambia il risultato dell'invito. Importantissimo. Usa le tue, mi raccomando. Usa le tue, ok? E usalo come processo, come ti dicevo prima. Poi, sicurezza. Non devi convincere gli altri. Devi essere convinto te, ok? Devi essere pronto a prenderti quel no in faccia. Se sei convinto il no, non ti fa male. Ti dispiace per lui. Se invece cerchi di convincere, cerchi di vendere, il no ti fa male. Mi raccomando, devi essere convinto. Non devi convincerti. Pronto a prenderti quel no in faccia. È un processo. Non attaccarti emotivamente alle risposte. Fanne tanti come una macchina, gli si arrivano sempre. Controllo. Te l'ho detto prima, è un processo. Quindi devi avere un controllo. Devi avere uno script. Devi sapere se lui dice cosa, cosa rispondo io. Cioè, va proprio fatto in maniera molto professionale. Devi dare importanza alle persone. Importantissimo, un'altra regola. Dà importanza alle persone. Perché hai chiamato loro. Cioè, se loro si sentono privilegiati, funziona meglio. Funziona molto meglio. Quindi, diglielo. Perché li hai chiamati? Perché sei sveglio? Perché sei attento? Perché sei il mio miglior amico? Ti voglio portare con me? Perché penso che sia la tua opportunità? Perché non ne posso più di vederti in quelle situazioni? Diglielo. Fagli sentire il privilegio di essere chiamati. Perché è vero. Quando tu chiami i primi cinque, li chiami perché gli vuoi bene. Gli vuoi dare l'opportunità. Solo che non la sai comunicare bene. E allora glielo devi dire. Perché quando parli a cuore aperto alle persone, i tuoi dieci, i tuoi quindici, il mercato caldissimo risponde. Poi devi dare valore. Un'altra regola è dare valore. Cioè, dagli una ragione per ascoltarti. Guadagnati il diritto di parlare. Questo come si fa? Non si fa né parlando di te, né parlando dell'opportunità, né parlando del prodotto, né del piano marketing. Si fa parlando di due cose. Uno. Della persona edificata. Puoi creare valore su una persona terza. Si, lo puoi fare assolutamente. Se io edifico un'altra persona, che non sono io, tu non la conosci. Non hai un pregiudizio come ce l'hai su di me, che sono tuo amico. Il mio brand personale ce l'hai in mente di me. Ma il suo brand non ce l'ha in mente. Non sai chi è? Se io edifico lui, creo valore. Quindi il termometro del valore va su. Lo alzo parlando di un'altra persona. Due. Parla del tuo perché. Delle motivazioni che ti hanno spinto a fare questa cosa qui. Io lo faccio per la mia famiglia. Voglio che ci dai un'occhiata. Lo faccio per dare la sicurezza finanziaria ai miei figli. Cioè, la motivazione. Né l'opportunità, né l'azienda, né cos'è. Niente. Perché deve ascoltarti. E perché lo fai te e la persona edificata. Così crei valore. E ricordatevi che il no arriva sempre quando il termometro del valore è impostato su 1, 2, 3, 4. Il valore percepito del nostro invito è basso e 1, 2, 3 ci dicono no. Se il valore percepito diventa alto. Quindi il termometro da 0 a 10 inizia ad arrivare a 6, 7, 8. La gente ci dice sì e viene a vedere. Una volta che abbiamo dato valore c'è l'ultimo step da fare. Che è quello di togliere valore. Togliere valore. Significa dargli paura di perdere. Le persone funzionano così. Noi esseri umani funzioniamo al contrario. Perché il cervello serve a proteggerci, non a farci felici. Quindi prima agiamo per protezione. E quindi fuga dal dolore. Fuggiamo sempre dal dolore. La paura di perdere un'opportunità grande è fuga dal dolore. Quindi noi agiamo quando sentiamo paura di perdere quell'opportunità lì. Mi raccomando. Quindi se tu sei sicuro, se hai il controllo dell'operazione, se hai dato importanza alla persona, se hai dato valore, quindi ti sei meritato una ragione per essere ascoltato, hai dato valore a una persona o al tuo perché, hai dato valore a quell'invito, a quella roba che devono andare a vedere. Poi gli devi togliere tutto. Ops. Ecco, come ho fatto io. Con questa enfasi. Poi gli devi togliere tutto. Gli devi togliere tutto. Gli devi dire che se non è lui è qualcun altro e tu non hai neanche bisogno che loro lo facciano. Hai solo bisogno che ascoltino perché non vuoi che tra un anno vengono indietro a dirti ma perché non me l'hai detto, ma perché non hai insistito. Quindi glielo devi togliere il valore, se no non vengono. Queste sono le regole. Le conclusioni quali sono ragazzi su un invito? È che c'è una grandissima differenza tra venire, essere invitati in un meeting, in un hotel, per sentire un piano marketing e parlare di un frullatino. Questa è l'opzione A dell'invito. Oppure essere coinvolto da un amico che ti vuole parlare per primo rispetto a chiunque altro dei suoi contatti, rispetto al progetto più importante della sua vita. Se mettete su una bilancia queste due cose, vince chiaramente il secondo ed è quello che deve percepire nell'invito. Non parlare del prodotto, del piano marketing. Parla di te. Parla di te, mi raccomando. Non accettare nessuna scusa e ricordati che è un processo. Non rimanere emozionalmente attaccata ai sì o ai no. I sì arrivano sempre dopo i no. Meno te ne frega della risposta, più attrai. Meno te ne frega della risposta, più attrai. Abbondanza, mi raccomando. Non accettare le scuse. Non dargli la possibilità di scegliere se venire o no. O vengono o sono fuori. Lascia sempre una porta aperta quando ti dicono di no. Ti do una domanda chiave che ho imparato che trasforma un no in un sì. Se una persona alla fine di tutto ti dice no e sarà la maggior parte, va bene. Tu usa questa domanda per trasformare il suo no in un sì. Posso tenerti informato su come va? Posso tenerti comunque aggiornato sugli sviluppi? Chiunque dice sì perché non gli stai vendendo niente. Per carineria ti dicono di sì. Però nella loro mente è rimasta come ultima parola un sì. Tu hai trasformato un no in un sì. Se lo fai con 100 persone che ti dicono no, tu trasformi 100 no in 100 sì, ti meriti il diritto poi di andargli a fare il follow up. Perché loro hanno confermato che tu potevi tenerli aggiornati. Mi raccomando. Posso tenerti comunque aggiornato sugli sviluppi grazie a che mi hai ascoltato? Ti tengo aggiornato, ok? Sì, bene, perfetto. Scheduli il follow up, magari tra sei mesi, dipende. Faremo un video apposto sul follow up. Un altro consiglio che ti do è che glielo devi fare vedere. Glielo devi mostrare. Cioè, se l'invito serve a diventare ricchi o essere liberi finanziariamente, perché tu credi in questa cosa qui, glielo devi mostrare con le parole, glielo devi far vedere nella mente. Quando io ho invitato i miei primi 25 prospect all'opportunità per cui lavoro, che mi ha portato sul tetto del network marketing in Europa, ho invitato tante persone e ne sono venute 25. Quello che io gli ho semplicemente detto è e uso il nome dell'unica persona che ha detto sì, perché ne ho portati 25 a sedere e uno su 25 ha detto sì. Oggi lui è ricco e gli altri no. Però è lo stesso, a parte questo gli ho detto Max, è arrivata questa roba dall'America. Non so niente, siamo i primi. Io mi sono stufato di fare il facchino. Tu fai il bagnino, sei un operaio come me. Vieni a vedere. Stasera hai l'allenamento, non andarci. Lui mi disse no all'inizio. Poi, coincidenze astrali varie, quando devono succedere le cose, mi chiama alle 18.30, la presentazione era alle 19.30 e mi fa non vado all'allenamento, ho la pelle d'oca. Non vado all'allenamento, vengo a vedere. Oggi anche lui è uno dei leader più grandi in Europa del network marketing. Però, cioè io glielo ho fatto vedere, glielo ho detto. Ti sei stancato di quella vita lì? Io mi sono stancato, vieni a vedere, siamo i primi, non capita più. Non capita più. Lavori in Herbalife, gli ho detto. Immagina essere 25 anni fa in Herbalife, cosa può succedere? Sei il primo qua. Glielo ho fatto vedere. E lui è venuto. Quindi dobbiamo disegnare con le parole il futuro, la visione, nella mente di chi ci ascolta. È importantissimo, non devi essere esperto per farlo. Devi solamente comunicargli perché lo vuoi fare te. Te l'ho detto prima, devi parlare di due cose. Edificazione della terza persona e il perché lo fai, perché lo vuoi fare, qual è la tua visione, dove vuoi arrivare. Disegnaglielo nella mente e vedrai che farà fatica a non venire. E poi chiaramente devi dare importanza a te. Cioè, quando te inviti la gente, se tu hai deciso di far sul serio, gli salvi la vita a loro. Vi spiego perché. Io non so che piano marketing ha la tua azienda, ma il mio ha una matrice a tre. Significa che posso avere al massimo tre gambe. Tutto quello che vado a fare dopo deve essere per forza messo in profondità, sotto le tre gambe, nel mio esempio. E i primi tre che ho iscritto io, solo uno dei tre è andato avanti, che appunto Max e gli altri due hanno smesso subito. Però io sono andato avanti a costruire in profondità perché io volevo arrivare. E sotto gli ho costruito in downline un impero a queste persone qua. Solo in una gamba, non in due, quindi non guadagnano niente, ma si ritrovano con dei milioni di euro infatturato nella downline, che se un giorno si svegliano e dicono, sai Fabio voglio ricominciare, devono solo fare due gambine schifose per iniziare a guadagnare 3, 4, 5 mila euro al mese così. Perché io gli ho costruito un impero sotto. Quindi se tu hai deciso di far sul serio, le prime persone che si iscrivono sotto di te, quelle ti dovrebbero pagare 20 mila euro per entrare. Quindi devi fargli arrivare questa opportunità qui. E non dire, quando inviti le persone, non dire, perché è una frase che odio e che sento dire da tantissimi, se entra lui, io qui mi innervosisco, perché se entra lui ti mette subito in una condizione di bisogno. E fa sì che sia lui ad avere l'accoltello dalla parte del manico. Quando tu lo chiami la tua voce trema e se trema non entra. Cioè in una conversazione bisogna subito impostare chi influenza l'uno. Perché uno è influenzato e l'altro influenza. Allora sei tu che devi influenzare gli altri quando prendi quel telefono. Se entri te è l'opportunità, non se entra lui. Se tu entri davvero, se tu decidi di far davvero, a lui gli salvi la vita invitandolo alla tua opportunità. Perché comunque gli costruirai un impero in downline. Se lui entra e smette subito, cosa che fa la maggior parte di persone, tu gli costruirai sotto. E se tu entri, lui entra. Il modo migliore per far entrare lui i fenomeni, che io odio, perché alla fine non fanno mai niente. Sono sempre le persone a cui non dai un euro che fanno, ma che hanno due palle, scusate così, è una fama incredibile di arrivare. Sono loro che fanno. Ma se tu vuoi far entrare lui, devi entrare te. Se entri te, lui entra. Noi all'inizio abbiamo iniziato con questa tienda, eravamo... Io ero un facchino e Max era un banino. Wow! Che background, che expertise, che attrattività sul mercato. Non ci cagava nessuno. Oggi entrano scienziati, ingegneri, dottori, avvocati, laureati. Oggi perché? Perché siamo entrati noi prima. Abbiamo creato un impero di cui tutti vogliono far parte e oggi entrano. Quindi io spero di averti dato dei buoni consigli. È talmente importante l'invito che stiamo pensando nella mia azienda di mettere un corso prima di fare gli inviti. Un corso prima per aumentare la consapevolezza del nuovo. Perché ragazzi, questi nuovi poverini entrano, sono nuovi, sono entusiasti, però non hanno conoscenza, non hanno know-how, non hanno niente di niente. E devono far percepire un valore enorme alla persona che chiamano per farli venire. Lo sappiamo com'è, non lo sappiamo, che se non sei bravo a fare un invito questi non vengono. E quindi noi stiamo pensando addirittura di mettere un breve corso di un paio d'ore, due, tre ore, al nuovo, per creare consapevolezza, per fargli capire bene in che opportunità è dentro, per fargli aumentare il termometro del credo. Cioè se prima di far quel corso credi tre, uscito da quel corso devi credere otto. Perché dopo se credi otto gli inviti vengono una bomba. Non è tanto importante lo script. L'ultima cosa che vi dico, abbiamo tre fasi nella comunicazione, noi persone. Abbiamo la parola, abbiamo il linguaggio del corpo e abbiamo il paraverbale. Ok? Parola, cosa dico? Linguaggio del corpo, come mi muovo, ok? Il corpo, tre, linguaggio paraverbale, tono, volume, frequenza della voce. Queste tre componenti lavorano insieme e creano l'efficacia di un comunicatore. Quando queste tre, sono ugualmente importanti tutte e tre, non c'è chi più chi meno. Sono uguali tutte, scusate, sono ugualmente importanti tutte. Ma quando non c'è congruenza fra queste tre caratteristiche, cioè fra queste tre, scusate, componenti, quindi parole, cosa dico, linguaggio del corpo, come appaio mentre lo dico, linguaggio paraverbale, tono, frequenza della voce, volume, entusiasmo, quello che fa percepire la mia voce. Quando queste tre componenti sono incongruenti, le parole perdono di potenza, non contano più niente. Vi faccio un esempio. Ciao, ciao Max. Ascolta, sai, ti devo dire una cosa. C'è una grandissima opportunità e vorrei che tu la vedessi stasera alle 19.30. Sei dei nostri? Cioè, incongruenza significa che le parole che dico non sono congruenti con come le dico. Perché se c'è un'opportunità io te lo dico con il fuoco negli occhi, con la voce così. Quando questo accade, quello che dico perde di valore. assumono il 100%, il 93%, quindi il 100% dell'efficacia comunicativa, solo come appaio mentre lo dico, linguaggio del corpo, e come lo dico, il paraverbale. Le parole non contano più niente. Ecco perché non voglio che ti fissi sullo script di cosa dire. Perché so che il nuovo è incongruente in queste tre componenti della comunicazione. Quindi il lavoro degli upline non è darti il testo, non c'entra un cazzo, è farti essere in comfort mentre fai l'invito, è farti essere rilassato mentre lo dici, è farti essere contento mentre fai gli inviti, vivere in quello stato emotivo dove tu hai una efficacia comunicativa importante, cioè dove le parole che dici sono congruenti con come appai mentre lo dici, se sei dal vivo, magari se non sei dal vivo, però il corpo reagisce allo stato emozionale, quindi sarai come mi vedi a me adesso se sarai veramente coinvolto dall'invito, ti muoverai di conseguenza per forza, non ce la fai a fare un invito efficace, entusiasmante, così. È impossibile. La fisiologia risponde allo stato emotivo. E tre, sul paraverbale. Quindi, chiave di lettura, il nuovo entra in una nuova professione. Se io sono il suo sponsor e ci vediamo per fare gli inviti, la prima cosa che faccio è farlo, lo devo far ridere, lo devo mettere a suo agio, gli devo far capire l'opportunità di modo che lui aumenti il suo credo, lo devo rendere veramente confortevole prima di fare l'invito. Poi gli do gli script dell'invito, gli spiego che è un processo, non è la telefonata agli amici, gli do qualche script e poi gli do dieci minuti per farsi il suo invito. E poi proviamo a farlo insieme. E i primi no che prende gli do uno scappellotto sulla spalla, gli dico, ma dai, che cacchio te ne frega? A me mi hanno detto di no in 180, poi sono diventato ricco lo stesso, tanto è sempre che sono un gioco di numeri. Quindi questo è il lavoro durante l'invito. Mettiamoci nei panni dei nuovi che sono dei cucciolotti smarriti, hanno bisogno di aiuto, quindi noi dobbiamo fare il lavoro di renderli confortevole quell'ora lì di inviti, quelle due ore lì, anche perché se lui associa all'invito dolore, non lo farà mai e non lo farà fare alla sua organizzazione. E tu non avrai un'organizzazione, perché se noi non invitiamo, non esponiamo. Se non esponiamo, non iscriviamo nessuno. Quindi è molto importante che tu riveda questo video in tutte le componenti, che ti prenda gli appunti nelle cose che ho detto e che tu taghi tutta la tua organizzazione e glielo fai vedere e fai prendere appunti a loro volta, perché l'invito è la chiave per un'organizzazione di successo. Poi parleremo del follow up in un altro video, parleremo di come attrarre lead con i social network, ma questo viene dopo, perché le basi del network sono queste qui. Quindi prima preoccupati di diventare bravo nelle basi. L'invito è la base del network, è la skill numero uno. Quindi ci vediamo al prossimo video. Mi fa piacere che mi avete seguito in tantissimi, anche se dovreste essere a lavorare a quest'ora in Italia. Ci sono le presentazioni a quest'ora qui, però va bene lo stesso. Ciao da Mexico, vado a mangiare, ci sentiamo per il prossimo video. Bye!